La Chinatown di Napoli va a fuoco. Questa mattina tra le 6 e le 7 un vasto incendio è divampato nell'area di Gianturco. Le fiamme si sono sviluppate da un capannone sito in via Galileo Ferraris 117, propagandosi poi in altri esercizi commerciali, limitrofi alla sede napoletana della direzione investigativa antimafia. L'area centrale, sia per l'industria che per i trasporti della zona napoletana, negli ultimi 15 anni è divenuta punto strategico del commercio orientale. Ancora da accertare le cause che hanno portato all'incendio, dopo qualche ora i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e intorno a metà mattinata hanno iniziato una ricognizione per cercare di comprendere se al momento in cui è iniziato il divampare del fuoco qualcuno fosse rimasto all'interno del capannone. Grazie.